Ma mi giunge voce che ci sia un accordo per far sì che tutto rimanga sostanzialmente così. La DDA va, lo vuoi, perché Caffiero è un fine. La DNA va, lo vuoi. A Palermo va il dottor Viola e Pristipino rimane a... È una lettura, sono delle cose nascoste, sono illazioni, leggende, potrebbe essere un quadro, scusi, perché così rimane tutto tranquillo. Bisognerebbe chiederlo agli attuali componenti del CSM. In una pagina del libro che abbiamo fatto col direttore Sellusti diciamo che il meccanismo è spiegato molto bene, si parla della regola del tre, uno a me, uno a te e uno a lui. Quindi non ci troverai nulla di male se il sistema continuasse in questo modo. Però mi scusi, se per esempio, non lo so, uno dei due rifiutasse, dice no, io, lo vuoi, e Viola, sono stato aiutato, ha detto possono concorrere, posso andare lì. Quindi si aprirebbe un contenzioso, quello nel rispetto delle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato che porterebbe poi ad una situazione d'impasse nei rapporti tra il giudicato dell'autorità amministrativa e il Consiglio Superiore. Quindi se nessuno ovviamente farà il passo indietro, la situazione dal punto di vista giudiziario potrebbe sicuramente complicarsi. E non è una bella immagine però. Questo, come dire, non devo dirlo io. Quando c'ero io, io cercavo di trovare un punto di equilibrio affinché le cose potessero andare proprio per evitare questi controcircuiti interni alla magistratura. Riequilibrio. Riequilibrio.